Superare antiche credenze e valorizzare i nuovi concetti e le nuove tecnologie del vino significa presentare al mercato un prodotto di qualità, ma occorre informare i vitivinicoltori delle nuove tecniche e convincerli a realizzare un prodotto che possa essere competitivo su un mercato vasto ed oggi altamente concorrenziale. Di questo si è parlato nella conferenza dibattito ottenuta a Pettorano sul Gizio. La manifestazione è stata promossa dall'ONAM, Organizzazione Nazionale Assaggiatore di Vino. L'organizzazione è nata nel 51 per opera della Camera di Commercio di Asti e per volontà di personalità eminenti nel mondo vinicolo. Il nostro scopo è quello di educare all'utilizzo e alla degustazione del vino, a bere in maniera responsabile e consapevole. Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione qui in Pettorano, ma rivolta a tutti i viticoltori della Valle Peligna. Perché? Perché la Valle Peligna, che è stata nei secoli il cuore della viticoltura abruzzese, oggi purtroppo diventa un po' la cenerentola. Vogliamo sensibilizzare i produttori a rivalutare e a rivedere un po' questo nostro oro rosso che abbiamo, ma che però non sfruttiamo e non utilizziamo. Viene successo della manifestazione non solo per la curiosità che l'argomento poteva suscitare, ma anche per un'interessata presenza di viticoltori, produttori e distributori. L'obiettivo di questa iniziativa è quella non solo di potenziare ciò che i nostri vigneti in questo momento possono dare sul nostro territorio, ma soprattutto di creare una sorta di cultura e quindi per cercare di dare uno strumento in più di sviluppo al nostro territorio e accantonando un po' quelli che erano i criteri meramente artigianali, ma direi di più dei nostri nonni, il vino si faceva veramente in casa una volta, per cercare di strutturarlo in maniera tale da poter essere competitivo con altre zone dell'Abruzzo stesso. Il sindaco di Pettorano sul Gizio Berarducci, nel portare il saluto della comunità pettoranese ha ringraziato all'ONAD perché ha fornito al piccolo centro Peligno un'ottima occasione per pubblicizzarlo. Notevole il cast dei relatori che hanno illustrato in tutti gli aspetti il prodotto vino. È stato poi proiettato un video sull'evoluzione e tecniche della minificazione. È seguito un interessante dibattito, mentre le conclusioni sono state tratte dalla dottoressa Velia Di Bacco. Il signor Rino Raffo, assaggiatore ONAB e delegato locale, infaticabile organizzatore della manifestazione, ha colto l'occasione per salutare gli ospiti e sottolineare il successo della manifestazione stessa. Sono contento dei risultati che abbiamo avuto perché con gli altri miei colleghi, anche loro iscritti all'ONAD, il signor Nino Piscopo e Franco Volpe, abbiamo creato e attuato questo nostro desiderio di poter far conoscere l'ONAD nella nostra zona. Grazie a tutti.